Salisciandi stagionale, altalena autunnale, meteo bizzarro. Prima il clima invernale, ora il dilagare di correnti più calde e umide di matrice nord africana. Ebbene, se nei giorni scorsi la colonina di mercurio ha registrato temperature al disotto delle medie stagionali nei prossimi giorni a detta degli esperti meteo, assisteremo ad una progressiva risalita. Un rialzo termico in alcune zone piuttosto brusco. Ad essere colpita dal trionfo del caldo il centro-sud e le due isole maggiori. Aspirare forti venti di scirocco richiamati dal vortice di bassa pressione. È un'Italia in realtà divisa in due. Le regioni del centro-nord infatti saranno influenzate da piogge intense ed anche abbondanti con conseguenti allerte idrogeologiche diramate. Rossa su gran parte della Liguria, arancione su Lombardia, parte della Toscana, Emilia Romagna e Veneto. Da ciò la decisione di molti comuni di chiudere le scuole. Nella parte meridionale della nostra penisola invece sarà un fine settimana con caldo anomalo con punte anche oltre i 30 gradi. Attenzione perciò ai malanni che accompagnano cambiamenti climatici così repentini nonché ai possibili piovaschi che ne potrebbero derivare.